Oggi voglio delle domande da parte vostra, delle domande che riguardano chiaramente la ricerca di un nuovo lavoro. Tu che potresti essere in cerca per chi vuoi cambiare, tu che hai appena finito la scuola, l'università e ti stai affacciando al mondo del lavoro, sicuramente hai dei dubbi, delle richieste. In precedenza ho fatto dei video che toccavano questi temi, ma penso che voi tutti mi potete dare degli spunti sui temi da trattare. Voglio proprio mettere al vostro servizio l'esperienza che ho maturato in questi ultimi vent'anni nel tema della ricerca del personale. Quindi scrivetemi nei commenti, mandatemi un messaggio e in base a tutto quello che mi arriverà, nelle prossime settimane farò dei video proprio sui temi che avrete toccato. Ciao a tutti!